In seguito ad una rissa scoppiata a bordo tra i membri dell'equipaggio, il direttore di macchina della nave Venita fu costretto a rifugiarsi nella sala motori. Dove fermò i motori e la nave fu lasciata in balia del mare, che andò ad incastrarsi sugli scogli. La Five Oceans salvage è stata incaricata del recupero del bunker fuoriuscito e quello che resta nei sebatoi, circa 145 tonnellate. L'operazione viene condotta per la tutela dell'ambiente e come prima priorità, hanno detto. Grazie a tutti!